salve a tutti qui in azienda stanno preparando le ultime cose per la partenza di lunedì destinazione paderno d'ugnano in provincia di milano è proprio lì che sta per nascere un nuovo spazio giochi con un settore riservato alla ristorazione in particolar modo per il giro pizza e bar la struttura al suo interno ospiterà un playground di 11 metri lunghezza ed oltre 5 di profondità tutta incentrata sul tema pirati nella parte antistante la struttura playground troveremo un'area soft dedicata ai bambini età prescolare caratterizzata appunto da giochi adatti alla loro fascia d'età ed ancora per finire un playground multi sport che al suo interno permetterà ai bambini di giocare sia a calcio sia a pallavolo ed anche a basket i tempi di lavorazione sono di circa 6 giorni lavorativi continuate a seguire la nostra pagina facebook così da poter essere sempre aggiornati grazie a tutti grazie a tutti